Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Oggi sono tornato finalmente con un nuovo episodio di Yogi Mitologia, questa volta con una carta molto particolare, chiamata Amabie, rilasciata quest'anno a tutte quelle persone che avevano partecipato ai Remote Duel Invitational. Partiamo dal principio, la carta raffigura l'immagine di uno yokai, che rappresenta una delle creature soprannaturali della mitologia giapponese. Le loro caratteristiche spaziano ampiamente da entità malevoli e maliziose, che si ritiene siano causa di sfortuna e danno, a coloro che sono considerati portatori di fortuna. Questo yokai è un essere leggendario che assomiglia a una sirena giapponese, dai capelli lunghi, corpo squamoso, bocca a forma di becco e tre gambe, e presumibilmente emerge dal mare, profetizzando un raccolto abbondante o un'epidemia. L'origine del suo nome è abbastanza misterioso, c'è solo una registrazione che attesta la sua esistenza e sembra molto simile ad uno yokai chiamato Amabiko. Si tratta anch'essa di una creatura a tre gambe, che risale dall'acqua per fare una profezia sui raccolti abbondanti o su eventuali malattie. Inoltre, allo stesso modo, l'Amabiko istruisce le persone a diffondere la propria immagine in giro perché le stesse possano essere protette dalla malattia. Amabie potrebbe essere quindi un semplice errore tipografico, oppure una variazione regionale dell'Amabiko. Secondo la storia, il primo avvistamento di questa creatura risalirebbe al maggio 1846, in epoca Edo. Da diverse notti veniva avvistata una strana luce alla baglia del lago della provincia di Igo, come se ci fosse un oggetto sospeso sulle acque. Un ufficiale della città decise allora di investigare, e fu così che lo strano spirito emerse dalle onde. L'aspetto era quello di una sirena con i capelli lunghi, ma sul volto aveva il becco di un uccello e il corpo era completamente ricoperto da squame di pesce. Si narra che essa si presentò come Amabia e disse di vivere nelle profondità del lago. Dopodiché annunciò la profezia. Il raccolto sarebbe stato abbondante per i prossimi sei anni e in caso di epidemia sarebbe bastato esporre una sua immagine affinché le persone risultassero sane. Dopo queste parole si immerse nuovamente tra le onde. L'ufficiale ordinò subito che la storia venisse esposta nel bollettino ufficiale della città e fece poi anche disegnare un'immagine della creatura. La storia raggiunse velocemente anche tutto il resto del Giappone. E fu così che la leggenda della sirena dal becco d'uccello diventò parte ufficiale del pantheon nipponico. Attualmente questo racconto è tornato ad essere nuovamente popolare, soprattutto in questi due anni di pandemia. Con tantissimi giapponesi e non che hanno condiviso online le immagini di Amabia. Ovviamente per scongiurare la diffusione del virus. Pensate che alcune persone hanno creato oggettini e amuleti proprio per celebrare la divinità. Conoscendo adesso la storia di questa carta, non lo so, ma la sua stampa ha qualcosa di molto poetico. Lo vedo come un portafortuna che la Konami vuole dare ad ogni giocatore. Diciamo che è il loro modo per proteggerci dal covid, soprattutto perché veniva data negli eventi remoto. Ragazzi, per oggi abbiamo finito. So che questa è una puntata un po' corta, ma devo un attimo riprenderci la mano. Spero comunque vi sia piaciuta e nel caso scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo come sempre di passare qua sotto in descrizione dove potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque e vi ricordo che la sera ogni tanto streamo su Twitch. Anche quello ovviamente lo trovate sempre qua sotto. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!